Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, come avete letto dal titolo oggi ci sarà un mega cheat day Da quanto aspettavo questo momento ragazzi finalmente posso dire che anch'io posso fare un cheat day Sarà un cheat day tra virgolette molto controllato perché ovviamente io stesso non voglio andare a compromettere i miei risultati Ma non mi piace assolutamente andare a fare i classici cheat day da 20.000, 30.000, 40.000 calorie perché secondo me non ha assolutamente nessun senso Quello che voglio andare a trasmettere io in questo cheat day è di stuzzicare tutto quello che mi va però in modo molto molto controllato Iniziamo con la prima colazione Da scemo A parte gli scherzi ragazzi che cosa stai andando a cucinare? Porri, giallimone e crema pistacchi sopra Sembra molto molto buono E in realtà questo cheat day è dato dal fatto che io stesso non ho portato nessun cibo dietro Non ho portato né farina d'avena, non ho portato né albume, non ho portato nulla se non soltanto delle barrette di Prozis Che in questo caso servono veramente tantissimo Dei brownie e ovviamente delle gallette perché ovviamente senza carbon non ci posso restare Cioè sapete che ovviamente io non scherzo questa sarà la mia... Ah no l'albume c'è però ovviamente c'è solo albume nel senso in queste barrette ci sono già le proteine Quindi che senso ha andare a consumare altre proteine in più E oltre a questo ho portato anche una pesca ma guardate in che condizioni si è presentata Tenete conto che una barretta ha 36 carbo, 18 grammi di proteine e 8 grammi di grassi Quindi direi un ottimo pasto se siete di fretta e siete di corsa Quindi due barrette equivalgono praticamente a un pasto completo e poi mi andrò a fare questo brownie E ovviamente sotto consiglio di fra andrò a mangiarmi questa pesca Andrò a mettere questa parte un po' deteriorata ma il resto andrò a mangiarlo comunque Non buttiamo nulla ragazzi, non buttiamo nulla, mi raccomando Dato che questo possiamo chiamarlo aperitivo perché comunque non è qualcosa di diverso dalle altre volte Andrò a mangiarmi una barrettina e poi ci vediamo direttamente dopo Mi farò vedere qualcosa di un po' diverso Andiamo ad assaggerli insieme, ovviamente anche la pesca vado a mangiare Questa è gusto lemon pie Vediamo com'è, abbiamo il primo morso Molto molto buona Mi ricorda tipo le Kinder Paradiso Come gusto Buona, io direi un voto 9 Messa in frigo Fidatevi, ne vale Ovviamente dato che ci stiamo spostando di nuovo verso Malaga dobbiamo portarci valigie e zaino appresso Infatti la situazione è questa Entrambi siamo devastati Ma ce la faremo Per chi non lo sapesse o comunque chi non avesse seguito i video precedenti Ci troviamo a Ronda Che è una località che dista circa due ore da Malaga Può dire che all'inizio era molto sottovalutata Ma facendoci dei vari giretti qui per il posto abbiamo in realtà cambiato idea Perché è molto 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 bella Molto comunque caratteristica Come vedete molte strade Comunque molte parti della città sono antiche Infatti adesso vi farò vedere comunque qualcosina se vi siete persi i video scorsi In ogni caso il mio consiglio è quello di andare a recuperare Quindi mi raccomando Se non ho ancora visto i video precedenti Voglio vedere Prima tappa che andremo a provare oggi sarà un Kurasan Che non è il classico che vedi dappertutto Si trova anche a Malaga Non so in altre destinazioni dove si trovi Ma è molto molto buono Almeno visivamente sembra molto buono Unica pecca Te lo vanno a schiacciare completamente Grazie vi ho chiesto Forse ce l'abbiamo fatta Abbiamo pagato 7,45 euro Ho preso una brioche al pistacchio All'interno c'è anche la granella Un grande di pistacchio Ora proviamo la penilla Cappuccino Brioche appena mangiata Se dovessi dare un voto a quella brioche Merita un 8,5 o 9 Non gli vado a dare un 10 Soltanto perché me la sono andata a schiacciare Nonostante gli avessi detto di non farlo Però vabbè in Spagna comunque sono Molto spesso fanno queste scenate Adesso sono circa Chi ore sono? 11, 11,5 Più o meno Ci faremo una passeggiata E poi andremo direttamente a apprezzare Ora abbiamo trovato questo ristorantino Che offre un bel po' di cose Ha anche una bella vista Quindi testiamo e vediamo cosa viene fuori Fail ragazzi Il ristorante è chiuso per davvero Quindi ci tocca cambiare E vedere un altro ristorante Alla fine nel male Siamo riusciti a trovare un ristorantino Che sembra abbastanza carino Vediamo se è anche buono Il menu si presenta abbastanza bene Questo è il menu Tenete conto che partono da C starter I sandwich Le insalate La carne La pasta La paella La paella non la andrò a prendere Perché andrò a prendere un altro giorno I panini La pizza E ovviamente i dolci Diciamo un bel po' di roba E vediamo che cosa tiriamo fuori Ecco quello che ho ordinato Ho ordinato un boccadillo Si chiama così in Spagna Con il prosciutto crudo Che poi in Spagna è veramente molto molto buono Un'insalata Chiamavano piccola insalata all'interno Con del formaggio C'è un po' di formaggio Dei pomodori E delle patatine fritte Questo è il nostro pranzo Gustiamocelo E diamo un voto anche a questo Bello croccante Ok ci siamo Panino appena mangiato Abbiamo pagato all'incirca 9,50 euro Quel panino Devo dire che in realtà Sia io che Fra Ci aspettavamo il sandwich Solo che sandwich Praticamente in inglese per loro E il boccadillo Che è quello la spagnolo Quindi la classica baguette Insomma nostra E quindi ci siamo rimasti un po' male Ma devo dire che alla fine era molto buono Non era niente di che Era un classico panino Con del prosciutto crudo Ci aspettavamo il sandwich Però dai Tutto sommato è andato molto bene Diamo un voto a questo panino Gli do un bel 7 Meritato Adesso ci facciamo giusto Un altro giretto per la città E poi nel pomeriggio Mangeremo qualcosa di un po' diverso Ecco Molto probabilmente andremo a puntare sul dolce Ok ci siamo ragazzi Ben trovato Una pasticceria qui in un angolino Vediamo che cosa offre Offre un bel po' di roba Brioche Altri tipi di torta sopra Mille foglie Che molto probabilmente andrò a prendere I biscotti Qui una roba enorme con la panna Altre cose con la panna Molto probabilmente andrò a prendere qualcosa con la sfoglia Quindi magari qualcosa con la prima pasticcera Una roba del genere Vediamo Ci siamo Ecco qui che cosa ho preso Perché alla fine come pasto libero Lo sto facendo solo io Lei è di compagnia Ho pagato 6,70 euro Vabbè ho preso anche tre bottigliette d'acqua E tre pasticcini Ecco qui Questa è una millefoglie Che è la mia torta preferita E questi qui sono due biscottini classici Diciamo loro Tipici Non so da dove partire Partiamo da questo Vediamo com'è Sembra Il bacio di dama Che è quello classico Torinese Però A livello proprio di Friabilità È molto Sabbioso Ecco Cioè si Intuma facilmente l'impasto Ha il cioccolato Non è molto presente però È buono comunque Passiamo ora al secondo È praticamente identico Solo che sopra Ha una base di cioccolato bianco Vediamo Anche questo è molto buono Passiamo ora Alla parte migliore Che è la sfoglia Vediamo La sfoglia Per me Sarà il migliore Molto buona Ha la panna All'esterno Non è neanche all'interno Infatti qua si sta sgangherando tutta Con tipo Una crema pasticcera all'interno Non ce n'è tantissima ma È buono Cioè l'impasto è molto buono Controllatini in bagno Sempre presente ragazzi Direi che è il pump Cioè Vuoi che dite? Se devo dare un voto Si meritano un 7 All'incirca Non mi hanno fatto proprio Impazzire Al massimo Perché avrei preferito Magari una cheesecake O una carrot cake Solo che qui I bar E le pasticcerie Sono completamente tutte chiuse Perché comunque In Spagna Sia sabato che domenica Anzi domenica non lavorano proprio Sabato magari vanno a chiudere Alle 3 O alle 4 Ovviamente qua erano le 4 e mezza Quindi era praticamente tutto chiuso Quindi nada Adesso ci dirigiamo in stazione Perché ritorniamo di nuovo a Malaga E ci aspetteranno i nostri amici Sia spagnoli che inglesi Perché stasera Preparatevi Tenetevi pronti Perché si va a mangiare Qualcosa di diverso Dal solito della dieta Quindi anche per questo Ho voluto fare questo Cheat day oggi Ed eccoci Arrivati finalmente a Malaga Voi avete visto 5 secondi Neanche Ma abbiamo fatto il viaggio Veramente della speranza Per ritornare Adesso ci andiamo Velocemente a cambiare Dato che tra mezz'ora Abbiamo una cena E noi ci vediamo Direttamente lì Eccoci ragazzi Ci siamo Tenete presente Che qui c'è direttamente Un computerino E può ordinare Veramente tantissime cose Io Ho già fatto partire L'ordine Ho ordinato All'incirca Una quindicina di piatti L'idea è quella Di arrivare a mangiare All'incirca Un 30 35 pezzi Di sushi Let's go Ready for the cheat meal? Iniziamo con la prima portata Questa la prendo all'inizio Come risciacquo Diciamo Iniziale Mentre sono anche arrivati i ravioli Questi i carne Poi c'è lì Altro sushi al mango Gli edamame I gamberetti Altre 20.000 cose diverse Ordini su ordini Quelli anche Erano i miei Arriveranno qui al banco A breve Nonostante Abbiamo aggiunto Un po' di pezzi Ora è arrivato il momento Di fare Altri ordini Quindi Vediamo che cosa offre la casa Ti amore Che cosa sei andata a prendere? Unica donna Che prende insalata Vabbè Vediamo un po' Che cosa Possiamo prendere ancora Ecco Quelli che mi piacciono di più Raga Sono i migiri Con il misalmone Infatti ne vado a prendere Altri Tenete conto che Un piatto è da due Io ne vado a prendere Ancora un bel po' L'idea è quella di arrivare Interno ai 35-40 pezzi massimi Magari posso prendere Questo qui In misal Let's go Prossimo ordine Sono stupiti E ci hanno appena detto Che la cucina Sta per chiudere In pratica Non vogliono Andarci sotto Quindi Let's go Partiamo Sono un bro Cheat day Ed eccoci Arrivati Finalmente a casa Stiamo veramente Morendo Di caldo Qua a Malaga C'è veramente Una umidità Assurda Il video Può terminare qua Siamo arrivati All'una e mezza Di notte Siamo entrambi Distrutti Mi raccomando Lasciate un bellissimo Like Per questo Super Cheat day E noi ci vediamo Al prossimo video